. Belen Rodriguez entra nella casa del grande fratello Vip, ecco quando. . Grande fratello Vip anticipazioni, Belen Rodriguez presto nella casa. Il GF Vip è stato considerato ultimamente un ricettacolo di maleducazione e ignoranza. Più che intrattenimento, sembra, a molti, che questo tipo di spettacolo offra soltanto diseducazione. . Lunedì si è assistito al processo a Geremias Rodriguez. Nelle ultime settimane il fratello di Belen Rodriguez ha avuto modo di sbraitare in faccia a Simona Izzo, salvo poi scusarsi dopo, senza contare le pesanti critiche rivolte a Cristiano Malgioglio. . 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